Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi annunciamo l'uscita su Amazon di Safe One Plus. Safe One Plus era quel prodotto che vi avevamo presentato qualche tempo fa che ci preannunciava l'imminente presenza di autovelox, postazioni fisse, mobili, tutta una serie di inconvenienti che potrebbero farcela pagare cara se il piede sull'acceleratore va un po' più in fondo. E se non vi ricordate le caratteristiche di questo prodotto, vi mettiamo qui la scheda in modo tale che possiate darvi una rinfrescata. Le cose che vi dobbiamo dire in questo video, perché ci sono delle novità importanti, vi dobbiamo dire qualcosa, abbiamo fatto il video così tanto per, abbiamo delle novità molto importanti, ricordatevi di iscrivervi al canale ragazzi, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina, così da non perdervi i prossimi video in uscita. Però ragazzi, prima di lanciare la nostra sigla, vi dobbiamo dire che durante questo video, noi diremo una parola che i primi due che scriveranno qui sotto, la parola che vi diremo durante il video, riceveranno gratuitamente, e spedito direttamente dalla Danimarca, dalla casa madre, dalla casa madre, il Safe One Plus. Solo i primi due. Solo i primi due. Per cui, occhio, attenzione e velocità. E soprattutto, guardate il video. E la parola è? Non dirlo. E ancora prima, guardatevi un attimo, la nostra sigla! Il video che stiamo facendo serve ad informarvi che, da domani, potete usufruire di un codice sconto, che vi metteremo qui sotto, ma è tutto TEC20, per poter acquistare il vostro Safe One Plus, con uno sconto del 20%. Il codice durerà una settimana. A partire da domani, dal primo di ottobre. Ricordiamo che il costo è di 50€, quindi con lo sconto del 20 lo andrete a pagare 40€. Quindi ragazzi, un'occasione, direi, importante. Safe One Plus ci dà questa occasione di condividere con voi un buono sconto, direi. Come vi diceva Miki, andatevi a rivedere il video, se magari anche l'avete visto, ma non vi ricordate bene, tutte le funzionalità, è veramente molto utile e andrà a sostituire tanti altri navigatori presenti sui cellulari, perché è molto, molto più immediato e più rapido l'utilizzo. E poi soprattutto non serve il cellulare. Una volta che lo avete attivato, avete aperto l'app, poi potete mettervi al cellulare. Altra nota importante, ci sarà già un aggiornamento non appena acquisterete il vostro Safe One Plus oppure se sarete uno dei due fortunati che riceveranno gratuitamente questo prodotto e questo riguarda la possibilità di segnalare autovelox fissi, perché attualmente si possono segnalare quelli mobili, quelli fissi, da settimana prossima con l'aggiornamento basterà schiacciare, tenere premuto per due secondi il tasto blu. Vabbè ragazzi, siamo giunti al momento della parolina. La parola che servirà per ricevere gratuitamente un Safe One Plus, vi ricordiamo solo due ne abbiamo in paio, la parola è Danimarca. Allora ragazzi, i primi due che scriveranno qui sotto nei commenti la parola che abbiamo detto Danimarca, insieme al proprio nome e cognome, vero perché poi dovremmo verificare che sia la persona che l'ha scritto sotto nei commenti effettivamente, riceverà il Safe One Plus in omaggio a casa. Successivamente, i due fortunati vincitori andranno a contattarci tramite Facebook, dalla pagina ufficiale di Tuttotec, trovate il link qui sotto, e ci manderanno un messaggio in privato fornendoci il nominativo e l'indirizzo di spedizione per effettuare appunto la spedizione del prodotto vinto. Ragazzi, vi ricordiamo i primi due, quindi affrettatevi e sarete magari voi quelli che riceverete il Safe One Plus gratuitamente. Detto questo, io direi che il video si può concludere qui, comunque anche il 20% di sconto non ci sembra male da offrirvi per poter acquistare un prodotto di questo tipo. Vi ricordiamo che avete una settimana e il codice è TUTTOTEC20. Per qualsiasi altra informazione scrivete pure qui sotto nei commenti. Io direi che per questo video è tutto e aspettiamo di vedere i vincitori. Ciao ragazzi! Ciao!